Finito? Signor sindaco! Grazie, grazie. Michela Coan, cinquantenne, sposata, insegnante di musica, è il nuovo sindaco del comune di Ribinelago. Al primo turno i candidati si erano attestati alla pari con 613 preferenze, un caso singolare che era balzato su tutte le prime pagine dei giornali nazionali. Ma nel malotaggio, 642 elettori hanno dato la preferenza alla lista civica insieme per un bel comune, che con il 51,77% ha reso possibile il sorpasso dell'altra lista civica, progetto Ribinelago, che sosteneva Candido Moss, raccogliendo 598 voti pari al 48,23%. La dedica la faccio a mia figlia che vedo qui, anche perché l'ho un po' sacrificata in questi ultimi tempi. Sono contentissima, non ho altre parole, sono contenta perché non ce l'aspettavamo. Noi abbiamo capito che c'era la possibilità di farcela, però finché non vedi il risultato non ci credi, per cui siamo contentissimi, contentissimi perché non pensavamo da come eravamo partiti, non ci davano così forti, quindi siamo felici, ci l'abbiamo fatta. La prima cosa è ascoltare i cittadini, perché in tutto questo mese tanti mi sono venuti a dire che hanno fatto delle richieste, lettere, senza risposta, quindi ascolto i cittadini e ci mettiamo subito a lavorare perché c'è tanto da fare, c'è un paese che ha bisogno di essere valorizzato, c'è un marco dei laghi che deve partire, per cui dovremmo metterci a lavorare seriamente.